e bentornati in questo nuovo video qua è edda e oggi siamo qua su crossroad vi volevo far vedere questo gioco che ho scaricato e spero che questo video vi piaccia non vi confondete con edda il cantante perché sennò vi da le canzoni di edda quindi voi scrivete edda clash royale minecraft e scrivete minecraft e vi verrà tutti questi video iniziamo questo il gioco consiste in schivare è morto consiste in schivare le cose le macchine e tu schiacci con il dito e il bello di questo gioco non c'è quindi è un gioco di cacca io non solo devo dire che a chi piace lasciate un mi piace questo gioco e scrivetevi anche sui commenti se mi piace questo gioco se invece non mi piace scrivete che non vi piace e non farò più questi video vince quantità vince chi dice più no o più sì quindi questo video non lo voglio fare così tanto lungo quindi adesso giochiamo ancora un po' poi intanto vi racconto e poi finirà questo video io se l'ho preso sul culetto la macchina non avevo capito ogni tanto non capisco ogni tanto non capisco perché il mio record è 155 oh una nuova macchina ciletta come me schiva la gallina incredibile la gallina attenzione la gallina subito incredibile abbiamo guadagnato il punto quindi questo video finisce qua lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ciao ciao ragazzi